Tempo di bilanci per quanto riguarda la Fondazione Impaia che in Senato all'interno della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani ha presentato un'ultima relazione annuale positiva alla gestione finanziaria del 2021 in netta crescita rispetto all'anno precedente. Abbiamo vissuto in maniera molto attenta il periodo della pandemia ma siccome il nostro settore di riferimento è l'agricoltura, l'agricoltura ha avuto una grande capacità di resilienza e noi l'abbiamo seguita e l'abbiamo accompagnata anche con tutta la nostra politica di investimenti. Ma quello che ci ha permesso di stare sul pezzo è stato sicuramente il grande lavoro impostato negli anni passati che è stato un lavoro di rivisitazione di tutta la nostra struttura, di tutta la nostra dotazione tecnologica che ci ha permesso di stare al passo e seguire l'evoluzione e la capacità delle nostre imprese e dei nostri iscritti di garantire al nostro Paese i rifornimenti, le produzioni e i rifornimenti per quanto riguarda tutto l'anno. Tutta l'agricoltura e l'agroalimentare. Con un valore del patrimonio superiore a 2 miliardi di euro per l'anno in corso la fondazione stima un rendimento complessivo del portafoglio immobiliare pari al più 4,61% rispetto al 2021. In merito a quello mobiliare invece l'aumento complessivo dovrebbe corrispondere al 4,29%. L'anno 2022 pur a fronte di mercati molto volatili e dell'impennata dell'inflazione la fondazione Empay è stata molto resiliente quindi il portafoglio sia quello finanziario quello immobiliare hanno performato in modo molto significativo. Tutto questo per implementare un patrimonio ovviamente a garanzia delle prestazioni dei nostri iscritti. Nonostante la profonda incertezza generale dovuta soprattutto agli effetti della pandemia il 2021 si sarebbe chiuso con la migliore performance degli ultimi anni. Certificato un utile di oltre 38 milioni più del doppio di quello maturato. Nella 2020 sempre nella 2021 a dicembre la fondazione vantava più di 39 mila iscritti impiegati presso quasi 9 mila aziende. I lavoratori contribuiscono al successo che sta realizzando con una ottima gestione Empay. I lavoratori agricoli oggi sono una parte essenziale per il nostro paese perché con oltre un milione di lavoratori garantiscono le nostre produzioni agricole a tutti i vari livelli. Quindi Empay è l'interprete migliore per gestire i risparmi dei lavoratori e farli fruttare per dargli anche garanzie per il futuro. Inoltre abbiamo una sfida importante che è quella della previdenza complementare. Dobbiamo estendere la previdenza complementare anche ai lavoratori agricoli e Empay può essere veramente il punto di riferimento per garantire a questi lavoratori una previdenza agricola ancora più solida. Numerosi gli interventi che si sono susseguiti in sala durante l'evento organizzato per illustrare i dati contenuti nella dossier rivolgendosi alla platea. Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Federico Freni ha rimarcato l'importanza di casse come Empay, la cui gestione meriterebbe un'attenzione particolare. C'è da mettere a punto qualche cosa, dobbiamo preservare le basi contributive, dobbiamo verificare il contesto degli investimenti, dobbiamo certamente allineare alcuni aspetti, però c'è grande interesse da parte del Governo a lavorare con le casse, per le casse, ma soprattutto perché siamo consapevoli che la previdenza delle casse è un pilastro essenziale della previdenza del Paese. Soffriamo una fiscalità importante, una fiscalità in crescita che supera in uscita il welfare, parliamo di oltre 760 milioni di fiscalità a fronte di 550 milioni di welfare erogato dalle casse di previdenza complessivo. Ci auguriamo che una maggiore sostenibilità in termini di fiscalità, che ritorni come fiscalità di scopo, oltre che una flessibilità nei nostri investimenti finanziari che possano rispondere a queste sfide importanti, oltre che una flessibilità del nostro welfare possa aiutarci a espletare in maniera più efficace il nostro compito. Durante la presentazione è stato anche sottolineato come l'assunzione di regole tributarie più favorevoli possa liberare risorse da investire nel sistema Paese. Ad oggi la fiscalità di vantaggio applicata ai fondi pensione sarebbe più favorevole rispetto a quella prevista per gli enti di previdenza privata. Sarebbe bene da parte del legislatore correggere tale anomalia fiscale.